Ospite di Live Stories, oggi il professor Pietro Ratto, scrittore, musicista e filosofo italiano con il quale affronteremo un argomento inquietante della storia della nostra Repubblica, l'uccisione dell'onorevole Aldo Mora avvenuta nel 1978. Lo faremo attraverso le pagine del suo libro L'onda anomala, una storia che andrebbe raccontata sicuramente ai più giovani. Ascoltiamo le risposte alle nostre domande del professor Ratto. Ma su quello che è accaduto ormai ben 42 anni fa, c'è ancora una forte copertura perché evidentemente ha a che fare con qualche cosa che ancora oggi è particolarmente urticante, preoccupante, velenoso. Stiamo parlando di un uomo che, per quello che io, a livello di idea, mi sono fatto scrivendo l'onda anomala, è stato il primo e probabilmente anche l'ultimo vero politico a mettersi di traverso nei confronti di quelli che erano gli interessi, soprattutto a livello di ingerenza nei confronti della nostra economia, della nostra politica interna, da parte di grossi gruppi finanziari e a cominciare da quella famosa trilateral di cui nei suoi diari, nelle sue memorie, Moro parla. Si tratta di una vicenda oscura, sì, particolarmente contorta e che mai potrà essere chiarita, secondo me, in maniera completa. Siamo in una fase da cui non si torna più indietro. Moro ha cercato di rivendicare, anche con atti concreti, politici veri e propri, un'autonomia dell'Italia, del suo paese, del nostro paese, appunto da un'influenza massiccia di quelle che sono le logiche aziendali, finanziarie, economiche, privatistiche d'oltreoceano, che secondo me sono un po' il prezzo che abbiamo dovuto pagare, e continuiamo a pagare per essere passati, saltati dal carro degli sconfitti a quello dei vincitori alla fine della Seconda Guerra Mondiale, precisamente da quel famoso 8 settembre del 1943. Quindi è chiaro che per poter veder salva una nazione che era considerata al ventre molle dell'asse e che sarebbe dovuta sparire completamente dalle mappe, dalle cartine geografiche e dalla geopolitica internazionale, secondo quelli che erano gli obiettivi ormai ben dichiarati e ben chiari, insomma, degli alleati, delle nazioni che stavano organizzando la rimonta nei confronti di Hitler e che in qualche maniera si consideravano già certe della loro vittoria. Ecco, il modo per poter uscire da questa situazione era quello poi di entrare in una forma di sudditanza molto grave da un punto di vista culturale, perché poi in realtà questa inglesizzazione di tutto ciò che viviamo, questo parlare in inglese e non potersi più esprimere sulle nostre cose se non attraverso questa lingua e in generale questa cultura americana dell'alimentazione, dell'istruzione, dell'educazione, della politica. Per non parlare appunto poi di quelle che sono appunto le ingerenze di tipo economico, ecco, tutto ciò è stato appunto il prezzo che abbiamo dovuto pagare, continuiamo a pagare per esserci salvati in quella situazione. Torino ha un ruolo centrale, riveste un ruolo centrale perché molti brigatisti arrivavano dal nord, arrivavano proprio da Torino, prendevano il treno e arrivavano giù a Roma o dove dovevano colpire, nel caso appunto della questione dell'ondanomale, cioè di Aldomoro, a Roma e poi se ne tornavano tranquillamente in treno a casa. Spesso si trattava di situazioni non soltanto legate al terrorismo, appunto per quel che riguarda l'ondanomale sto parlando, si parla di due personaggi aderenti a Gladio di Torino che si sono trovati a colpire, in questo caso rispetto a quello che viene spiegato in una missiva anonima assolutamente inquietante inviata nel 2009 alla stampa di Torino, in questo caso appunto due aderenti a Gladio che avevano il compito, così appunto viene scritto in questa lettera, di esercitare un ruolo di copertura nei confronti dell'azione delle Brigate Rosse agli ordini del colonnello Guglielmi. Quindi una cosa particolarmente sconvolgente perché si tratta del primo caso in cui si comincia a parlare di una vera e propria copertura dei servizi segreti, in questo caso di Gladio, nei confronti del lavoro del terrorismo. Ciò non può che avvallare in maniera assolutamente sconvolgente quanto cristallina la famosa teoria della strategia della tensione, che appunto sposata da molti storici del nostro tempo, sostiene che tutti gli anni di piombo e comunque le grandi azioni di terrorismo verificatesi appunto tra la fine degli anni 60 e gli anni 80 inoltrati siano state ordite proprio per obiettivi politici, per spostare l'elettorato verso destra e per quindi fugare quella minaccia della diffusione delle idee di sinistra e comuniste che appunto invece dal 68 in poi stavano pericolosamente diffondendosi. Io direi che la similitudine di fondo che si possa riscontrare tra quel periodo e questo sia così come a quell'epoca sulla questione Moro venne a calarsi una vera e propria forma di censura e i depistaggi non si contarono e persino quelle che potevano essere le testimonianze diciamo più efficaci e più dirimenti vennero in qualche maniera accantonate inspiegabilmente ecco così nello stesso momento ancora oggi si pratica e sicuramente con molta più facilità trattandosi poi ormai di un'era assolutamente mediatica e quindi in mano a chi i media li gestisce ancora oggi si pratica appunto ancora di più questa forma di censura e di filtro e di manipolazione dell'informazione e poi chiaramente l'altra similitudine è quella di una nazione come quella italiana succube delle logiche imperialiste economico-finanziarie di un paese straniero come gli Stati Uniti logiche contro cui come ho detto Moro ha cercato inutilmente di contrapporsi e d'altra parte già la storia di Mattei dà le idee abbastanza chiare di come e di che cosa rischi chi osi contrapporsi a questo genere di influenza straniera e quindi è chiaro che ancora oggi e anzi tanto più oggi questa succubanza della nostra politica della nostra economia della nostra cultura nei confronti di quelli che sono i diktat oltreoceano che arrivano oltreoceano è abbastanza evidente sì dunque io credo che questa storia vada raccontata vada raccontata con tutte le perplessità che può suscitare con tutte le incertezze con tutte le lacune che continua e che continuerà sempre a contenere ma vada raccontata soprattutto ai giovani siamo di fronte a una situazione paradossale per cui sembra proprio che i programmi ministeriali per quel che riguarda l'insegnamento della storia nonostante i proclami e le stesse stesure dei libri di testo dei manuali scolastici che fanno di tutto per arrivare fino al 2000 o addirittura oltre per giunta in un'ottica evidentemente ben poco indipendente perché è chiaro che nel momento in cui si comincia a parlare di Berlusconi o delle cose attuali insomma di Renzi eccetera non si possa essere veramente diciamo assettici e quindi diciamo perfettamente trasparenti ecco nonostante quello che è appunto il proclama del ministero circa il fatto che la storia debba essere studiata fino a oggi e ripeto questa non è più storia in realtà è attualità e quindi io contesto fortemente questa idea ecco nonostante tutto ciò in realtà poi che cosa fa il ministero per esempio nei licei scientifici da anni ha tolto un'ora di storia in quinta e aggiungendo un'ora di filosofia in terza questo è un esempio di come quello che viene proclamato poi in realtà non coincida assolutamente con ciò che poi viene fatto il risultato è che i colleghi, gli insegnanti di storia e filosofia per cui che riguarda il programma di storia fanno fatica ad arrivare agli anni settanta e questo cosa comporta? comporta la formazione come viene ormai definita visto che di educazione nessuno parla più la formazione di studenti che un giorno saranno uomini totalmente all'oscuro di quello che è accaduto per esempio rispetto alla vicenda Moro Aldo Moro è più un nome che si celebra una volta o due all'anno a seconda se lo si faccia al momento della sua cattura oppure della sua morte con tante corone di fiore, qualche strada o piazza o scuola intitolata lui ma che cosa veramente sia successo e soprattutto che cosa si debba ancora capire di questa terrificante vicenda, di tutto ciò i nostri ragazzi e gli uomini di domani ma già gli uomini di oggi non sanno nulla aggiungo che il mio Londa Nomala è stato concepito proprio come un libro destinato ai giovani e quindi si incrocia quelle che sono le analisi e gli approfondimenti relativi a questa pista relativa a questa lettera anonima pista trascurata, lasciata sullo sfondo assolutamente dalla magistratura fino ad oggi ecco si interseca all'analisi di questi fatti e di questo documento e delle indagini che lì per lì un ispettore della Digos di Torino ha provato appunto a fare si intreccia appunto con quella che è invece la narrazione di un colloquio all'esame di Stato l'esame di maturità in cui un ragazzo racconta quelle che sono le cose che conosce al di là di quello che nel libro di testo viene scritto dimostrando molta passione tra l'altro per la vicenda appunto rispetto alla strage di Viafani anche perché questo libro è un libro il mio che si concentra su 5 minuti, 5 minuti della strage questo perché? Perché mi serviva un escamotage, un espediente per riassumere la vicenda al di là poi del dipanarsi di quella che era la trama relativa all'indagine specifica rispetto a questa pista appunto trascurata la vicenda generale, mi serviva un qualcosa che mi permettesse di fare da contorno e da raccontare di nuovo tutta la questione e questo avviene attraverso appunto la scena il racconto di quello che è il colloquio di questo ragazzo e poi i dialoghi che successivamente si verificano tra lui e il suo esaminatore, il membro esterno di storia e filosofia questo libro tende proprio a entusiasmare, se questo riesce a fare entusiasmare i giovani e provare a spingerli, a cercare io sono convinto che la scuola non debba dare delle verità debba spingere e incoraggiare i suoi studenti a cercarsele e quindi quello che dico sempre, per me la scuola non deve dare risposte ma semmai somministrare, insomma, suggerire domande è evidente, sì, oggi si parla di presunta verità e non di certa verità perché si sa benissimo che troppe sono le cose che non tornano che troppi dubbi vengono lasciati sullo sfondo e quindi i giornalisti stessi non possono fingere più di tanto rispetto a quella che è la situazione diciamo anche chiaro che anche quando si desecretano i vari documenti in Italia è abbastanza tipico l'atteggiamento di lasciarli comunque a disposizione dei giornalisti e degli studiosi, sì, ma pieni di omissis e di rigarcenere che cancellano i dati più importanti, le date, i nomi e quindi in realtà questa incompiutezza dell'informazione ormai endemica è qualcosa a cui non possiamo più rinunciare io temo che questo problema si verifichi non solo con la questione Moro ma da lì in avanti sempre di più anche con tutte le altre questioni i misteri d'Italia si infittiscono e si moltiplicano sempre più da quel 1978 e basti pensare ancora soltanto alla questione di oggi di questo virus che tante domande ha lasciato aperte e continua a lasciare aperte che sono convinto che non verranno in nessun modo evase e nonostante una parte della popolazione spinga affinché chi gestisce la questione e chi ci governa venga a rispondere ecco, tanti interrogativi, tante perplessità tante contraddizioni che sono proprio in qualche maniera la caratteristica essenziale della storia italiana probabilmente sin dalla nascita della nostra nazione grazie a tutti grazie a tutti